Il luogo dove ci possa essere una possibilità di espansione delle nostre opportunità, ma anche nuovamente dove ci siano luoghi dove si possa avere uno scambio e crescere sicuramente con gli obiettivi che ci siamo dati è la California che comunque è una delle aree dove maggiormente è un'impace, è un'attività di uffici in questo sito, più a altri paesi che noi siamo comunque vivendo. Io credo che sia un segnale di tantissima vivacità e attenzione, saranno tantissime aziende, dirigenti di settore che comunque parteciperanno al Global Forum.